musica 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 ricominciamo di nuovo con lo show ragazzi eccolo qua l'armadetto spuntin dog il bundle da 2500 wab ecco la skin e le bellissime emote il balletto, bella mossa 2500 wab per questi 5 oggetti d'orso decorativo e piccola felicotter ron altrimenti sono la skin 1500 wab e l'emote 500 poi si passa a tutte le schede di evidenza tutte in concentrazione da 1200 axo da 1200 wab piccola a linea da 1200 wab poi tutti i picconi guardateli da 800 wab o da 500 il tridente e poi si passa al bundle del falcone gruppo bananita ecco qua due skin bananita sbucciata che potassio smasso poi le osse decorative e lo strumento di raccolta l'emote banana di indignanario e l'altra emote è un'emote molto carina molto carina il tutto a 2500 wab altrimenti hai due skin da 1500 a 1200 e l'emote banana di indignanario da 500 wab molto molto bello e poi il bundle vai oltre lo di limite ragazzi già due oggetti quindi skin possegono il nostro decadino di me costa 1400 wab e poi la bellissima marius ragazzi 800 wab questa skin è molto bella stella del sin da 1500 due mod spettacolari da 500 e pirouette da 200 e poi the kid la roy ragazzi abbiamo visto l'evento prima il bundle the kid la roy nel 2004 le due skin normale quella elettrificata le osse decorative il piccolo è l'acqua per un po' altre dimensioni di queste skin la skin la più bella è questa quella da 1500 mentre l'altra della roba la roy viene il 2000 e ha più piccoli poi a parte la copertura da roy freestyle 500 wab ecco poi la musica e la schermata di caricamento tutto al 200 wab molto bello le bot cuore di red a 500 tutte le modi alza del volume tutti i copyright eccole qua buonanotte buonanotte maldo un po' vado anche io poi billy ribalzello masso del pigrone questo è il video dello show ragazzi il video dello show che pubblico fra pochissimo di sabato 28 gennaio e poi vedete elettrosuite da 500 wab allacciate le cinture da 500 eclettico da 500 breakdash da 800 molto bella questa bolletta un passo inconfondibile ragazzi questo è molto bello questo è molto bello da 500 poi fuori luce e la braccia dell'orso due modi alza del volume tutte le skin di alza del volume molto bella ancora una carrellata di tutti gli oggetti dello show ragazzi mi raccomando ditemi cosa ne pensate dello show di oggi ragazzi ovviamente lasciate un like di oggi vi ricordo per supportare il canale vedete i vostri acquisti su fuori di rock and link poi dice creatore e mickey crotto attaccato m-i-k-a-y-c-r-o tutto attaccato da mettere ogni quattordici giorni e qua tutto lo show di oggi di 28 di sabato 28 gennaio secondo me la cosa più bella è ovviamente il il bundle di killaroy soprattutto la skin di killaroy questa è molto bella dei vari stili una bella cosa più bella che c'è oggi e non male anche anche i balletti di killaroy e secondo me anche il balletto per la mossa niente male e poi questo cuore di lei molto molto carino e poi queste ballette di alzaluna niente male che non riesco tutto miglia di balzello e passi inconfondibili di ditemi anche voi cosa ne pensate della show di oggi ora è tutto ragazzi un salutone ai miei moderatori al mio gruppo whatsapp cn-club ovviamente al mio team di forna il grandissimo team di forna cn un grandissimo ballo qui voglio un mondo di bene e un salutone a tutti quelli che hanno partecipato ovviamente anche alla live quindi anche al video tvb dragon buonanotte a tutti da corrido Renato Michi Croo ragazzi ehi guys vi voglio bene ragazzi mi raccomando seguitemi iscrivetevi collegatevi condividete ehi guys e buoni ehi